micro live lab e covid 19 sulle superfici i nostri tecnici specializzati campionano diverse superfici nelle vostre strutture soprattutto quelle superfici dove le mani andranno a toccare maggiormente e quindi parliamo delle diverse tastiere tasti dell'ascensore mouse tasti del telefono fino arrivare al post per il pagamento con carte di credito di recente abbiamo isolato il covid 19 sul corrimano in una casa di riposo l'importanza di questa valutazione riguarda soprattutto la verifica della bontà delle vostre operazioni di sanificazione e detergenza e anche la verifica della validità del vostro protocollo covid per il contenimento